passeggiata o passà quando il signor lerà computista presso i signori la bussa e soci uscì dal negozio rimase per qualche istante affascinato dallo splendore del tramonto del sole aveva lavorato tutto il giorno sotto la luce pallida del becco del gas in fondo al retro bottega sul cortile stretto e profondo come un pozzo il piccolo ambiente dove da 40 anni trascorreva le sue giornate era così buio che anche in piena estate era difficile risparmiarvi l'illuminazione tranne che dalle 11 alle 15 era sempre umido e freddo e le emanazioni di una specie di fossa su cui era esposta la finestra entravano nella stanza oscura e la riempivano di un odore di muffa e di un fetore di fogna il signor lerà da 40 anni arrivava ogni mattina alle 8 in questa prigione gli restava fino alle 7 di sera curvo sui libri scrivendo con la tenacia dell'ottimo impiegato guadagnava oltre 3000 franchi all'anno avendo cominciato da 500 era rimasto celibe perché i suoi mezzi non gli permettevano di prendere moglie e non avendo mai goduto nulla non desiderava affatto grandi cose talvolta però stanco del tenore di vita monotono e sempre uguale formulava un platonico voto cristo se avessi 5000 franchi di rendita trascorrerei i miei giorni come un papa non aveva mai vissuto come un papa del resto non aveva avuto niente all'infuori dei soliti salari mensili la sua vita era trascorsa senza avvenimenti senza emozioni quasi senza speranze la facoltà di sognare che ciascuno c'era in se stesso non si era mai sviluppata nella mediocrità delle sue ambizioni era entrato a 21 anni dal signor labuse c non era più uscito nel 1856 aveva perduto il padre poi la madre nel 1859 dopodiché nulla di interessante tranne uno sgombero nel 1868 perché il proprietario aveva chiesto l'aumento dell'affitto tutti i giorni alle 6 precise la sua sveglia lo faceva precipitare dal letto con un orrendo rumore di catena che si dispiega due volte in verità questo meccanismo si era fermato nel 1866 nel 1874 senza che egli si fosse reso conto del perché rivestiva rifaceva il letto scopava il pavimento della camera spolverava la poltrona e il piano del cassettone queste piccole occupazioni gli prendevano un'ora e mezzo poi usciva comprava un panino a mezzaluna nel forno lorè di cui aveva conosciuto 11 padroni differenti senza che la panetteria avesse perduto il suo nome e cominciava a camminare rosicchiando il panino aveva trascorso l'esistenza intera nello stretto e oscuro ufficio tappezzato sempre dalla medesima carta era entrato giovane come aiuto del signor brumain e con il desiderio di prendere il suo posto esaudita questa speranza non attendeva più nulla la messa dei ricordi che gli uomini mietono nel corso della loro vita gli avvenimenti imprevisti gli amori calmi o tragici i viaggi avventurosi i rischi o la fortuna di un'esistenza libera erano rimasti completamente estranei a lui il giorno le settimane i mesi le stagioni gli anni erano sempre simili alla stessa ora ogni giorno si svegliava usciva arrivava in ufficio pranzava andava via cenava e dormiva senza che nulla avesse mai interrotto la regolare monotonia degli stessi atti dei medesimi avvenimenti e dei pensieri sempre uguali un tempo fissava i suoi baffi biondi e i capelli ricci nel piccolo specchio rotondo ereditato dal suo predecessore ora contemplava ogni sera prima di partire i baffi bianchi e la fronte calva nell'identico specchio 40 anni trascorsi lunghi e rapidi vuoti come un giorno melanconico e simili fra loro come le ore di una notte infelice 40 anni di cui non restava nulla neanche un ricordo neanche un dolore dopo la morte dei suoi genitori nulla quel giorno il signor lerà restò abbagliato sulla porta verso la strada dallo splendore del tramonto invece di tornare a casa progettò di fare una passeggiata prima di cenare cosa che accadeva quattro o cinque volte all'anno raggiunse i viali dove scorreva un flusso di gente sotto gli alberi rinverditi era una sera di primavera una delle prime serate calde e languide che riempiono il cuore di euforia il signor lerà andava e camminava saltellando da vecchio camminava con l'allegria che traluceva dallo sguardo felicemente rapito dalla gioia universale e dall'aria tiepida arrivò sino agli champé di sé e continuò a camminare animato dall'effluvio di giovinezza che il vento fresco esalava il cielo intero era in fiamme l'arco di trionfo proiettava la sua massa scura sul fondo risplendente dell'orizzonte come un gigante dritto in piedi in un incendio quando raggiunse il mostruoso monumento il vecchio computista si ricordò di aver fame ed entrò in un'osteria per cenare gli servirono davanti alla bottega sul marciapiede un pezzo di carne un po di insalata e degli asparagi verrà consumò un pasto come non ne faceva da tempo annaffiò il formaggio di prie con mezza bottiglia di bordoso praffino beve una tazza di caffè cosa rara insolita e infine una coppa di champagne di prezzo dopo aver pagato si sentì arzillo assai allegro e anche un poco eccitato mormorò a se stesso un'ottima serata continuerò la mia passeggiata fino all'ingresso del bois de boulogne mi farà bene riprese a camminare un vecchio motivo che cantava un tempo uno dei vicini gli riecheggiava ostinatamente nella memoria quando il bosco l'invertisce il mio innamorato dice vieni a respirare bella sotto la pergola lo cantichiava infinite volte lo ricominciava sempre da capo la notte era scesa su parigi una notte senza vento affosa verrà seguì il viale del bois de boulogne osservando passare le vetture arrivavano con i fanali lucenti l'una dietro l'altra lasciando scorgere per un istante una coppia allacciata la donna con un abito chiaro uomo vestito di nero era una lunga processione di innamorati che passeggiavano sotto il cielo stellato e ardente arrivavano di continuo passavano ripassavano distesi nelle vetture in silenzio serrati l'uno contro l'altro smarriti in una vaga fantasia nell'emozione del desiderio nel fremito dell'intima stretta l'ombra calda sembrava riempirsi di baci che ondeggiavano fruttuanti una sensazione di tenerezza e languidiva l'aria la rendeva più soffocante tutti questi esseri allacciati inebriati dalla stessa attesa dallo stesso pensiero diffondevano come una febbre intorno a loro e le vetture colma di carezze lasciavano dietro il loro passaggio una scia sottile di turbamento il signor lerà un po stanco di camminare sedette su una panchina per assistere alla sfilata delle vetture cariche di tanti amori quasi subito dopo una donna arriva vicino a lui e si sedette al suo fianco buongiorno piccolo disse egli non rispose affatto lei riprese lasciati amare caro vedrai che sarò molto affettuosa rispose vi sbagliate signora lei passò un braccio sotto il suo andiamo non fare l'idiota ascolta egli si era già alzato e si allontanava con il cuore stretto cento passi più lontano un'altra donna l'abbordò volete sedervi un istante con me bello mio richiese perché fate questo mestiere la donna gli si fermò davanti cambiando la voce con un tono rauco cattivo per dio non è mica per mio piacere verrà insistete dolcemente allora cos'è che vi spinge e le brontolò bisogna anche vivere furbo che non sei altro il signor rauco rimase atterrito altre donne passavano accanto a lui lo chiamavano li invitavano gli parvi che qualcosa di nero si stendesse sul suo capo qualcosa di straziante si sedette nuovamente su una panchina le vetture passavano sempre avrai fatto meglio a non venire qui pensò eccomi completamente a disagio sbarrito cominciò a riflettere a questo amore venale o passionale a tutti quei baci pagati o donati che spilavano davanti a lui non conosceva affatto l'amore non aveva avuto nella vita che due o tre donne per caso per sorpresa perché le sue disponibilità finanziarie non gli permettevano nulla di straordinario ripensava a questa vita che aveva condotto così diversa dalla vita di tutti a questa vita così scura così triste così piatta così vuota esistono degli esseri che non hanno mai fortuna a un tratto come se un denso velo si fosse squarciato scoprì la miseria l'infinita la monotona miseria della sua esistenza la miseria passata quella presente quella futura gli ultimi giorni simili ai primi senza nulla davanti a lui nulla dietro nulla intorno nulla nel cuore sempre nulla in ogni parte la sfilata delle vetture continuava vedeva apparire e sparire nel rapido passaggio della vettura scoperta due esseri silenziosi allacciati sembrava che l'umanità intera sfilasse davanti a lui inebriata di gioia di piacere di felicità era solo a contemplarla solo completamente solo sarebbe stato ancora solo domani solo come nessuno è stato solo se alzò fece qualche passo improvvisamente stanco come dovesse compiere un lungo viaggio a piedi si sedette sulla panchina vicina cosa attendeva cosa sperava nulla pensava che deve essere bello quando si è vecchi trovare tornando a casa i bimbi che chiacchierano è dolce invecchiare quando si è circondati da questi esseri che vi debbono la vita che vi amano che vi accarezzano che vi dicono tante parole affascinanti e sciocche che riscaldano e consolano il cuore e ripensando alla camera vuota alla propria piccola stanza dove dove non entravano altri che lui una sensazione angosciosa gli serrò il cuore e apparve la camera ancora più melanconica del piccolo ufficio non vi giungeva nessuno nessuno vi parlava mai era morta muta senza eco di voci umane si potrebbe dire che i muri conservino qualcosa degli esseri che vivono dentro qualcosa del loro aspetto della loro personalità delle loro parole le case abitate dalle famiglie felici sono più allegre delle case dei disgraziati la sua stanza era vuota di ricordi come la sua vita il pensiero di rientrare in quell'ambiente solo di dormire nel suo letto di rifare i movimenti e le faccende di tutte le sere lo spaventò e come per allontanarsi maggiormente dalla sua sinistra dimora dato che bisognava ritornarci si alzò e incontrando subito il primo viale del bosco entrò in una radura per sedersi sull'erba udiva intorno a sé sopra di sé dappertutto a un rumore confuso immenso continuo costituito di rumori innumerevoli e differenti un rumore sordo vicino lontano un vago ed enorme palpito di vita il respiro di parigi che ansimava come una creatura colossale il sole già alto riversava un flutto di luce sul bois de boulogne alcune vetture cominciavano a circolare e i cavalieri arrivavano allegri una coppia passeggiava lentamente in un viale deserto ad un tratto la ragazza alzando lo sguardo scorse fra i rami qualcosa di scuro alzò la mano meravigliata inquieta guarda cosa c'è poi emettendo un grido si afflosciò nelle braccia del suo compagno che dovette posarla in terra le guardie chiamate subito staccarono un vecchio impiccatosi per mezzo delle sue bretelle si constatò che la morte risaliva alla sera della vigilia le carte che aveva indosso rivelavano che era computista presso i signori labuse soci e si chiamava lerà si attribui la morte ad un suicidio di cui non si arrivò a sospettare la causa forse un improvviso accesso di follia grazie a tutti